Non male, credi sia il tunnel che porta al sanatorio? Certo che sì, dove altrimenti? Chris, so che sei ferito, ma devi muoverti, intesi? Ci provo, Ash. Sì, è tutto bene. O ci dovevamo lasciarlo lì? No, no. In quattro sono me. Ah, gli spero scappando. Ehi, dovremmo chiudere, no? Eh? Se qualcosa ci stesse seguendo... Sì, giusto, chiudilo, ma dobbiamo andare. Ci vediamo più avanti, ok? Ma perché? Sì. Preparati a saltare. Anche perché i cosi lì sono qui sotto. Ricordiamoci che si crepa... Ti ricordi che si crepa con una roba del genere? E lo portavano su? Sì. Perfetto. E io, questo dovrebbe essere il primo capitolo. Perché erano... Abbiamo letto che erano 9. Ci vuole chiedere a tutti noi, questo tipo. Chi è? Ehi, chi c'è? C'è qualcuno? Jessica? Sei tu? Tutto questo è assurdo Che cazzo fai? Lasci lì Jessica, sei tu? No, non mi ricordo una cosa Eh, però ti ricordi sempre Eh, non ricordo, guarda Obiettivo raggiunto Sì, ma guarda un token Non so se è un pericolo o una pasta Cos'è da fatto? No, marina Questo nome è video Potrebbe essere questo No No Prende fuoco Sembra questo il posto Sì Cos'è? Oddio Oh, no, 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 no No Vai Ormai sei lì È lui Per me è il mostro E se è Jessica No, però sei vicino Non farlo Eh, non lo so Cioè, viene da aprire 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 ah ah vabbè eh per liberarsi da dalle dita sopravvive quindi vuol dire che a mini no sembra sarebbe morto contro un po' che non l'avrebbe uccisa si stava scherzando potrebbe essere potrebbe essere però non sento più la cosa c'è scusato se Jessica per logica parlerebbe no? andiamo a guardare i totemi di perdita c'è una luce in fondo non sembra questo il posto però non mi sembra questo il posto ma lo so ma lo so ci tu io non lo farei la luce c'è la luce c'è possiamo barare? no davide no non possiamo dobbiamo farlo non poteva essere Jessica la patente può giornare la frafalla? non lo so che vero?